Musica Bentrovati delle spettatori di TV6 Appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di martedì 28 febbraio Dall'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che avremo condizioni di instabilità diffusa Soprattutto al nord Italia e lungo le regioni tirreniche Nel dettaglio sull'Abruzzo al mattino le condizioni meteorologiche risulteranno stabili e soleggiate su gran parte del territorio La ventilazione proverrà dai quadranti occidentali e mari risulteranno prevalentemente calmi o poco mossi Nel corso del pomeriggio le condizioni meteorologiche continueranno a risultare stabili su gran parte del territorio Ma assisteremo ad un aumento di nuvolosità che andrà ad interessare soprattutto il versante occidentale della nostra regione Mentre sul versante orientale le condizioni meteorologiche risulteranno ancora stabili e soleggiate A causa della ventilazione da Garbino le temperature risulteranno in aumento su tutto il territorio Nel corso della serata assisteremo a deboli precipitazioni che interesseranno soprattutto l'ovest della nostra regione Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento Nel corso del pomeriggio le condizioni meteorologiche risulteranno in aumento su tutto il territorio